Ma scusi, ma a casa tua non si bossa? Ho bisogno di te, ho bisogno del tuo aiuto. Hai fatto un sogno e me sogni sono, non è che sono verità, ecco. Perché la Madonna non sta al suo posto? Che è successo? Lì non ci va ogni tanto dal dottore a farsi visitare, eppure le statue. Ogni tanto si portano a fare le visite di controllo, tale quale a noi. Ma me lo vuole spiegare il perché. Aspetta e lo saprai. Scusate, io il caffè non l'ho preso, ma posso dire lo stesso la mia. Ma che ne pensi di questa cosa del sogno? A me che in chiesa ci va tu non dopo l'altro, la Madonna non mi appare mai. E invece te la sogni tu che non ci vai mai. Ma io non ci credo alla storia del sogno. Quest'alfonsina è sempre stata una furbetta. Dai, Teresa, Teresa! Ma perché non me ne andate a casa vostra a guardare Becore? Ah, cos'è? Non ne stanno Becore in Marocco? Ani, Hukol, Advarim. Io sono tutte le cose. Perdonare mi sta pure bene, ma mi starebbe pure bene un po' più di giustizia dalle nostre parti.